Buongiorno, oggi è mercoledì 16 maggio, la segna stampa in breve di video 33, nuovo appuntamento con la nostra informazione. La perturbazione di ieri e dell'altro ieri ha portato ad un brusco abbassamento delle temperature con nevicate intorno ai 1500-2000 metri di quota. Gli effetti li vediamo in questa immagine che ci arriva dal passo dello Stelvio, guardate la situazione pochi minuti dopo le 6 di questa mattina al 2700 metri di quota, 0 gradi il termometro e la neve che è ritornata ad imbiancare le montagne più alte della nostra provincia e della nostra regione. In regia abbiamo Massimo Moro, andiamo a vedere quelle che sono le previsioni meteo in provincia di Bolzano innanzitutto, alternanza ancora una volta di sole e nuvole, temperature in leggero rialzo rispetto alla giornata di ieri, non si escludono temporali. Identica situazione nella vicina provincia di Trento, anche qui lieve in alzamento delle temperature rispetto alle ultime 24 ore, ma anche qui alternanza di sole e nuvole con precipitazioni. Andiamo allora a vedere quali sono le aperture dei quotidiani che troviamo oggi in edicola, come sempre la stampa a livello locale e poi quella a livello nazionale. L'Alto Adige passi, addio alle chiusure, sul Sella potranno salire tutti ma bisognerà registrarsi. Accordo sulla Reale, ci saranno anche 500 alloggi Ipes, la Bolzano del futuro prende forma anche attraverso il nuovo ospedale pronto soccorso, il trasloco in un anno. La cronaca cura del Corriere dell'Alto Adige, proprio le grandi opere che interessano il capoluogo, è l'apertura a Reale, prima approvazione, il sindaco dice il percorso sarà difficile ma la volontà c'è. E anche qui spazio dedicato al nuovo ospedale con il pronto soccorso che sarà il primo a trovare una nuova collocazione. Ateneo aziende, rete green, necessaria una scuola inglese, il rettore della Libera Università dice siamo aperti alle collaborazioni, l'evento organizzato da Corriere Imprese. La cronaca che arriva dal vicino Trentino, purtroppo c'è apprensione per una coppia di alpinisti trentini bloccati in Tibet, paura per Romano Sebastiani e Adriano Bonmasar, una bufera sorpresi due trentini che stavano tentando l'ascesa a una delle montagne più alte sulla catena himalaiana, con loro anche Sebastiano Valentini di Canazzei che è tornato al campo base. La cronaca ancora della provincia di Bolzano in lingua tedesca, questa volta con il quotidiano Dolomiten, la gestione della presenza dei grandi predatori sul territorio, un convegno a livello europeo, un incontro, un confronto. Ovviamente la notizia sappiamo interessa da vicino la provincia di Bolzano e la provincia di Trento. Si avvicina il giorno dell'arrivo della nazionale germanica in ritiro in Alto Adige, tutto quello che c'è da sapere nella pagina dello sport. Ogni mercoledì troviamo un'edicola all'inserto economico del Vico, ci si occupa della possibilità e delle possibilità sempre più concrete di spostare il trasporto merci dalla gomma alla rotaia. Una di queste possibilità è offerta dal cosiddetto trasporto intermodale. Gli esperti si chiedono come mai, nonostante ci siano queste opportunità, vengano sfruttate veramente poco. Il quotidiano Tagest Zeitung, anche qui il tema è quello del lupo e della presenza dei grandi predatori in provincia di Bolzano. Il tema è stato trattato anche a livello europeo, una delegazione alto a Tesina. I dettagli a pagina 3. Il Corriere della Sera, una bozza allarme mercati. Sappiamo nel contratto tra Movimento 5 Stelle e Lega l'idea di uscire dall'euro, la precisazione si parla di un testo superato. Di Maio e Salvini si dicono ottimisti, stiamo per chiudere l'ipotesi della staffetta. E se per la cronaca, il Sole 24 Ore lega Movimento 5 Stelle nel contratto colpo di spugna al debito, la richiesta alla Banca Centrale Europea di annullare bond per 250 miliardi di euro, ma intanto arriva il richiamo di Bruxelles. Qualsiasi governo arrivi, l'Italia deve rispettare il patto di stabilità. È tutto, in chiusura come sempre io vi ricordo gli appuntamenti da non perdere. In provincia di Bolzano si avvicina la via dello stagione, della stagione degli aperitivi lunghi, presso la Braseli della Forst a Bolzano. L'appuntamento è per domani, 17 maggio. Dal 19 al 20 di maggio la festa della banda musicale di Oris. Dal 25 al 27 maggio due gli appuntamenti, Cavalcata Oswald von Wolkenstein e la festa per i 200 anni della banda musicale di Burgusio. Dal 25 al 26 di maggio invece Open Air a Lana. È tutto, grazie come sempre per aver scelto anche oggi l'informazione di video 33.